Ciao ragazze, benvenute sul canale! Allora, oggi video dei prodotti terminati del periodo inizio subito perché ne ho diversi, di diverse categorie non fate caso ai capelli perché li ho lavati e li ho lasciati così quindi devo ancora sistemarli con la piastra insomma, devo ancora terminare la piega Allora, inizio con i prodotti per la skin care del viso Allora, ho terminato questo gel detergente alla rosa centifolia di fitocose è davvero ottimo, io questo lo utilizzavo al mattino in abbinamento alla konjac, alla konjac sponge l'ho trovato estremamente delicato, estremamente efficace quindi fa il suo lavoro per bene, insomma qui c'è scritto che addirittura è consigliato anche per la pulizia delicata del viso e del contorno occhi io evito sempre di far andare nella zona del contorno occhi i gel detergenti o detergenti del viso, diciamo, in generale e questo per farvi capire quanto è delicato i prodotti fitocose sono davvero, davvero una conferma, ragazze cioè, più li utilizzo e più mi piacciono un altro detergente per il viso molto diverso da quello che vi ho fatto vedere adesso è la mousse detergente anti acne di Alchemilla l'ho utilizzata con molto, molto piacere perché è davvero efficace se avete dell'impurità, se avete la pelle grassa questa davvero tiene a bada l'impurità, la pelle, diciamo, con imperfezioni la utilizzavo specialmente la sera dopo aver passato il latte detergente per togliere i residui oleosi del latte detergente sul viso, insomma e è davvero efficace, funzionale e soprattutto questa mousse, nonostante sia per pelle grasse, quindi purificante ho notato che è davvero delicata cioè non andava a far tirare la pelle non la seccava ulteriormente non la rossava quindi anche questo è davvero un ottimo prodotto poi è terminato questo siero viso macchie e pigmentazioni di Bio Earth ragazzi, questo siero, questi sieri in generale allora non mi sono piaciuti già per il fatto che 5 ml con 5 ml ci capite un po' poco, diciamo, del prodotto questo in più rimaneva anche appiccicato che io odio i sieri che rimangono appiccicati sul viso e su quelle macchiette post brufolo che io ho non ho notato tutto questo effetto ma non l'avrei notato comunque perché con una settimana di utilizzo difficilmente si poteva notare qualche effetto poi ho terminato questo idrolato di Amamelis Bio della Saponaria questo lo riacquisto sempre quando non so cosa acquistare diciamo come tonico, come idrolato perché è davvero ottimo mi piace tantissimo sulla mia pelle perché sia delicato, sia purificante, astringente buono, buono, buono quindi un ottimo prodotto che riacquisto quando ne sento il bisogno poi ho terminato questo burro cacao di Albiana la versione classica vi faccio vedere anche il cartoncino allora, l'ho acquistato su Acco Verde questi prodotti di Albiana costano anche poco non mi ha fatto impazzire non è proprio un no diciamo che è un ni perché per quello che cerco io dai burrolabbra deve essere un pochino più corposo deve rimanere un po' di più dovete sentire la sensazione proprio di pelle nutrita, idratata e questo non mi dava tutto questo effetto nutriente diciamo che io cerco quindi no sicuramente non lo riacquisterò poi prodotti per il make up stranamente perché è difficile che termino prodotti per il make up ho terminato questa mini size della Cipria Hollywood di Neve Cosmetics che mi era stata anche mandata in omaggio dall'azienda con un ordine sicuramente che avevo fatto molto tempo fa questa non manca mai perché è una Cipria HD davvero ottima che acquisto e riacquisto quando termina perché è davvero ottima poi ho terminato sempre di Neve Cosmetics un gloss il loro vernissage questo era nella versione allora allegoria della primavera sì era abbastanza non so se si nota un pochino la colorazione era trasparente tendente un pochino al salmone a me questi mi sono piaciuti molto questi vernissaggi di Neve Cosmetics perché rendono le labbra molto molto nutrite idratate hanno proprio un forte effetto nutriente e mi sono piaciuti però questi un pochino più trasparenti non quelli molto pigmentati perché quelli pigmentati poi mi andavano un po' a sbordare invece questi sul trasparente erano molto pratici per tutti i giorni insomma e li ho utilizzati ecco quindi è anche terminato poi due mascara uno il mascara di april la versione volume che ho amato in passato perché già questo il secondo e il terzo che riacquisto ma questo penso che era un lotto un po' andato male perché come l'ho aperto era già secco quindi l'ho utilizzato per pochissimo tempo non mi è durato niente e niente sicuramente l'azienda dove l'ho acquistato ce l'aveva da da tanto tempo oppure era un lotto uscito male non lo so comunque non mi è durato tanto in passato mi era piaciuto insomma sia questo che la versione quella normale di april un altro mascara è il gentleman di mulac che invece ho amato cioè all'inizio non tanto ragazzi perché era davvero troppo pieno di roba cioè troppo troppo pieno troppo denso insomma stavo sempre a pulire il pennellino infatti questo mi è durato tipo una vita non so se quasi un anno mi è durato perché non lo terminavo mai adesso alla fine proprio si era ovviamente seccato e era proprio terminato come quantità di roba all'interno però all'inizio proprio era troppo troppo pieno quindi quando andavo ad applicarlo facevo un po' fatica perché me ne andava tanto diciamo sulle ciglia però a parte questo inconveniente è davvero ottimo come effetto infoltente allungante e anche come colore un bel nero quindi colore di un bel nero le ciglia e mi è piaciuto molto come effetto io poi ho delle ciglia sfigatelle insomma che non ce ne ho poche ce ne ho dritte quindi proprio niente deve essere un buon mascara per soddisfarmi questo lo è poi veniamo ai prodotti prodotti vabbè vi faccio vedere i campioncini cambio cambio scaletta allora ho terminato due campioncini del marchio beyond me due sieri questo era il siero viso all'acido ialuronico che mi è piaciuto molto ma non è un siero viso nel senso che è una crema una cremina bianca abbastanza leggera buono non mi è piaciuta la profumazione non so dirvi di cosa profumasse però non mi ha fatto impazzire a livello di profumazione però come consistenza come prodotto ottimo questo invece il siero per pelle impure non mi ha fatto impazzire perché quando lo applicavo sul viso mi faceva della schiumetta io odio l'effetto appiccicaticcio della schiumetta su alcune serie di viso e quindi in più mi tirava molto la pelle quindi no questo non mi ha fatto impazzire un altro prodotto per pelle impure il face lotion di Martina Gebhardt alla salvia è un buon prodotto però contiene olio di mandorle dolce ai primi posti quindi non ho mai avuto la curiosità oppure la voglia di acquistare la full size per questo motivo poi è terminato questo bagno schiuma della saponaria dolce schiuma alla carota e vaniglia mi è piaciuto molto come prodotto in sé la profumazione di vaniglia era quasi nulla si sentiva un pochino la carota molto delicato diciamo buono crema mani nutriente produttiva di biofficino toscano crema mani troppo leggera per questo periodo l'ho utilizzata ma non era sufficiente per questo periodo invernale dove le mani si iscreporano un pochino di più e la crema corpora soda lift di bio da mussola toscana che amo adoro e uso sempre con molta soddisfazione poi prodotti per corpo e capelli ve l'avevo detto ragazzi che ne avevo tanti di prodotti questo questo mese allora ho terminato il deodorante di dottor Organic all'aloe questi deodoranti a me piacciono sempre quindi non mi dilungo ve ne parlo sempre super bene poi questo è uno shampoo che hanno terminato i miei ma io l'ho provato un paio di volte è uno shampoo senza infame e senza lode del white agafia 280 ml ha un costo basso lo utilizzo per tutta la famiglia questo nella versione volume e lucentezza poi ho terminato il mio adorato shampoo della linea da mussola toscana 11 shampoo crema micellare ristrutturante anti età uno dei miei preferiti che vi faccio rivedere spesso perché mi piacciono tantissimo poi ho terminato la crema al ginseng assodante per il corpo di fitocose mi è piaciuta il profumo proprio no ragazzi non so sperarvi fosse troppo fiorito troppo non lo so fiori un po' non lo so un tipo di fiore che non mi piace insomma molto nutriente molto idratante l'effetto rassodante ovviamente è relativo però una buona crema diciamo per il corpo non male poi ho terminato la crema plus end up seno di dottor taffi mi è piaciuta tantissimo ha una profumazione ottima 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 ve la sentite per tutto il giorno voi mi mettete questa crema sul seno vi sentite questo profumo tutto il giorno che vi viene che vi viene su proprio infatti buonissima mi è piaciuta come potere rassodante mi è durata una vita una crema seno comunque sia questa è da 100 ml mi è durata veramente forse più oltre il pau sicuramente buona devo dire buona io alterno sempre questa crema con il loro siero per il seno e mi piacciono entrambi i prodotti davvero ottimo poi per i capelli ho terminato questa questa combo diciamo di eterea per l'effetto cioè per rinforzare i capelli ecco qui questo era l'olio da 30 ml questo era il siero da 50 ml mi sembra adesso non vorrei dire no ho sbagliato allora l'olio addirittura da 10 ml invece il siero da 30 allora il siero non mi è piaciuto non ho visto granchi effetto non insomma come se fosse acqua sinceramente su di me non ho visto una riduzione della goduta dei capelli eccetera l'olio invece mi è piaciuta molto la profumazione si sentono molto gli oli essenziali mi è piaciuta diciamo come stimolante del cuoio capelluto prima di fare lo shampoo però vi freddava tantissimo la cute cioè proprio l'effetto freddo era troppo forte e l'ho terminato diluendolo nello shampoo quindi per un effetto rinforzante però diciamo che non è successo niente diciamo che nel complesso non mi ha fatto impazzire questo questo trattamento rinforzante per capelli primo perché costa un bel po' e poi i risultati non li ho notati anche cosa che invece con altri prodotti solitamente noto quindi sicuramente non li andrò a acquistare non vi consiglio poi ho terminato questa tinta di Noah nella colorazione castano chiaro dorato 5.3 l'ho fatta due settimane fa ragazze non pensavo che era così scura ha schiarito tantissimo scurito tantissimo il mio tono naturale dei capelli ha coperto bene i bianchi per carità mi avevo segnato tutte le qualità e tutti i pro e contro della tinta allora quindi pro buone coperture di capelli bianchi ho detto i capelli erano molto lucidi appena appena diciamo sciacquati insomma appena asciugati aveva un buon profumo infatti questo mi è piaciuto perché non sembrava che stessi tenendo in posa una tinta contro allora il colore si troppo scuro avendo un letto castano chiaro dorato io pensavo che era un colore un pochino più caldo invece era un colore molto molto freddo capelli erano molto molto secchi subito appena risciacquati sentivo proprio al tatto i capelli super secchi mai avuto un effetto così e avevo una sensazione ho avuto una sensazione di calore durante il tempo di posa calore proprio sul cuoio capelluto e non mi è piaciuta molto questa cosa e in più hanno poche colorazioni disponibili quindi anche vorrei rifarla non so quale colorazione scegliere ma non la rifaccio perché l'effetto del calore sulla cute sinceramente non mi è piaciuto proprio per niente bene ragazzi allora ho terminato ci sono qualche prodotto c'è qualche prodotto extra che vi voglio far vedere allora ho terminato questo detergente per piatti a mano di al macabio al macabio non so come si pronunci da 250 ml è davvero ottimo davvero concentrato davvero buono però io ho un limite ragazzi che anche se so che è concentrato non riesco a metterne in una cucina ne metto sempre un po' di più quindi non so se anche voi vi fa lo stesso effetto non lo andrò a riacquistare per questo perché comunque sia io un po' tendo a sprecarne sempre quindi non so oggi come parlo non ci fate caso e quindi non lo andrò a riacquistare comunque sia un ottimo prodotto poi ho terminato i miei incensi adorati allora uno mi è piaciuto tantissimo questo qui che avevo acquistato sempre sul sito di Macro Libraxi questo qui è buonissimo ancora si sente la profumazione non so dirvi che profumazione è perché non me lo ricordo ma non c'è neanche scritto buonissimo questo invece all'arancia non mi sono piaciuti per niente per niente proprio nonostante io ami gli agrumi in generale ma questo proprio avevo una profumazione una volta acceso pessimo pessimo proprio non mi è piaciuto e in più ho terminato un profumo un profumo proprio per per me insomma acqua di Joe Armani nella versione Absolue questo è uscito l'anno scorso ve lo faccio vedere perché per me è una conquista solitamente quando acquisto dei profumi dopo un po' mi stufo e non riesco a terminarli invece questo mi è piaciuto tantissimo fino all'ultima goccia ne è rimasta qualcosa ma la continuerò a utilizzare e niente è davvero ottimo non ve lo so spiegare perché non so spiegarvi diciamo le profumazioni dei profumi in generale però ve lo volevo far vedere perché per me è stata davvero una piacevole scoperta e ogni volta che lo annuso mi piace tantissimo solitamente con i profumi di Armani mi sono sempre trovata bene anche in passato mi ricordo che ho utilizzato Armani Code Armani Mania beh questo sto facendo un fuori tema però vabbè se magari vi può interessare invece in questo periodo ho iniziato un profumo che mi piace tantissimo che non c'entra niente Guarmania di Kenzo ve lo farò vedere quando lo terminerò è stato un regalo molto gradito e mi sta piacendo tantissimo anche quello insomma vi volevo far vedere anche questo bene ragazzi sono arrivata a oltre 15 minuti questi erano tutti i miei terminati del periodo ditemi voi se conoscete questi prodotti se avete qualche domanda da farmi e ci vediamo al prossimo video ciao a tutte ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti